Foltiamo pagina e parliamo di libri con un testo che vuole raccontare un'annata davvero particolare, quella del 1973. Un anno che si dà a pronunciare tutto d'un fiato, sì, perché rimane impresso nella nostra mente. Per molti magari sarà una data speciale perché è l'anno del proprio matrimonio, della nascita del proprio figlio. Invece per il nostro ospite si tratta di un anno memorabile perché in quei 365 giorni si sono concentrati degli eventi sportivi entrati poi nella storia. E quindi diamo il buongiorno allo scrittore Pachito Catanzaro che oggi ci racconterà Generazione 73. Ciao Diletta, buongiorno a tutti gli amici di Mattina Live. Buongiorno a te Pachito. In questa tua ultima fatica racconti la vita sportiva di grandi calciatori ed allenatori e anche alcuni meno noti, tutti nati nel 1973. Come ti è nata l'idea di questo libro? Ma in realtà è nata per puro caso, nel senso che volevo celebrare questa generazione di calciatori che quest'anno ha compiuto o compie o dovrà compiere nei prossimi mesi 50 anni. Per cui ci sembrava simpatico realizzare una sorta di album di figurine letterario nel quale celebrare con quella democrazia che è tipica dell'album della Panini tanto i grandi nomi del calcio quanto i perfetti sconosciuti. Pertanto trovano spazio grandi campioni come Fabio Cannavaro che ha vinto praticamente tutto oppure Carlo Cudicini che è noto in Inghilterra ma meno noto in Italia avendo giocato una sola partita in Serie A. Per cui il desiderio era quello di raccontare le storie di questi 16 protagonisti accomunati dall'aver militato in Serie A o come calciatori o come allenatori. Poi ho raccontato prevalentemente storie di vita perché era poi quello l'obiettivo primario. Ecco in questo libro sono presenti delle storie nate da interviste ai diretti interessati oppure ai loro allenatori ma anche esperienze magari di giornalisti vissute in prima persona con alcuni dei protagonisti. Che esperienza è stata confrontarsi con dei veri e propri miti del calcio e non solo? Per me è stato molto emozionante anche perché ho fatto una sorta di salto indietro nel tempo e sono ritornato ai tempi in cui ero adolescente e con questi calciatori praticamente ci sono cresciuto. Chiaramente trovarsi al cospetto di Iezo e immaginare quello che ha fatto per giocare nel Napoli mi ha fatto bene al cuore perché in qualche maniera mi fa credere ancora che ci sia un lato romantico nel calcio. Purtroppo al momento questo lato romantico non viene fuori per le note vicende ma parliamo d'altro. Poi è stato anche divertente confrontarsi con ex allenatori su tutti Ottavio Bianchi che per me è l'allenatore del primo scudetto del Napoli o con professionisti del mondo dell'informazione come Micaela Palmieri che è appunto il volto del Tg1 che nasconde appunto questa identità di difosa interista sfegatata e che con grande divertimento ha parlato appunto di un calciatore come Xavier Zanetti che secondo me è uno di quei nomi che accomuna tutti chi segue il calcio e chi non lo segue sa chi è questo calciatore iconico non soltanto per i tifosi interisti. È stato bello poter coinvolgere quattro diretti interessati ancora di più poi poter confrontarsi con personaggi collaterali che hanno arricchito il volume. La generazione 73 ha visto giocatori vincere campionati mondiali palloni d'oro come Fabio Cannavaro, Roberto Carlos figli d'arte come Carlo Cudicini, Marco Del Vecchio, Gennaro Iezo, Alesso Scarpi insomma chi di tutti questi ti è rimasto più nel cuore? Allora per motivi calcistici barra sentimentali Ghezzo perché comunque ho avuto la possibilità di confrontarmi con lui proprio dal vivo è stata una lunghissima chiacchierata che meriterebbe un libro a parte e inoltre ripeto ho trovato questa sua scelta di rinunciare ai soldi e la possibilità di giocare in Champions League per vestire la maglia che sognava da bambino. Contemporaneamente mi sono molto emozionato nel momento in cui ho intervistato Alessio Scarpi che è un calciatore che non ha una carriera chissà quanto nota però ha salvato la vita di un compagno di squadra e credo che quel gesto eroico meritasse di essere raccontato all'interno di un libro. Nel contempo mi ha molto emozionato intervistare Nevio Scala che è stato l'allenatore del Parma, forse il Parma più bello della storia di questa gloriosa società che mi ha sconfessato poi un qualcosa che sui giornali è sempre stato raccontato in maniera diversa ovvero che Inzaghi non è venuto a giocare al Napoli non perché fosse stato l'allenatore a impedirglielo ma perché era stato lui stesso a scegliere di continuare a giocare a Parma e immaginare un personaggio del genere che è lontano dal mondo del calcio ormai da circa 20 anni sentire nella sua voce la gratitudine dice ma il mondo si è dimenticato di me, come hai fatto a chiamarmi? Dico guardi mister io ci tenevo in modo particolare ad avere un suo parere è stato il primo allenatore di Filippo Inzaghi quindi desideravo aggiungere la sua testimonianza ed è stato bello vedere che dall'altro lato c'era una persona emozionata che con emozione ha poi parlato di un suo ex calciatore Ma c'è secondo te un denominatore comune al di fuori della data di nascita che unisce tutte queste personalità? Secondo me il fatto che loro si siano divertiti perché fanno parte, facevano parte, fanno parte di un calcio che era ancora lontano anni luce da quello che viviamo quotidianamente oggi ho il timore soprattutto quando parliamo con le nuove generazioni e io ho la fortuna di incontrare molto spesso gli studenti e parlare loro di questo libro che si punti a due cose al contratto milionario e alla possibilità di avere un mare di follower questi erano calciatori che a un certo punto si preoccupavano poco di quello che succedeva fuori perché si dovevano preoccupare delle vicende di campo e avevano la possibilità di avere una loro vita privata vita privata che poi si sono ripresi nel momento in cui hanno terminato le loro carriere alcuni sono diventati allenatori altri magari hanno scelto di fare tutt'altro nella vita prendigliezzo non perché voglia essere monotono e ripetitivo però lui ha scelto addirittura di insegnare il calcio ai bambini e utilizzo questo verbo con cognizione di causa perché fare l'allenatore con i bambini ti porta a dover insegnare loro una professione gli insegna che cosa significa la responsabilità gli insegni che cosa significa il sacrificio temo che le nuove generazioni tutto questo non l'abbiano compreso perché sono bombardati continuamente da informazioni sui social network attraverso i media invece per leggere di Fabio Cannavaro ai tempi dovevi comprare la gazzetta dello sport oppure il Corriere non esistevano ancora i profili Instagram quindi la vita privata dei calciatori ci apparteneva fino a un certo punto quelli del 73 infatti sono ragazzi che non hanno conosciuto i social hanno visto però dei cambiamenti epocali in questo momento però il calcio è stravolto da uno scandalo scommesso che vede tra l'altro convolti calciatori giovanissimi che cosa pensi di questa generazione? guarda ti dirò io sono molto amareggiato per quello che sto sentendo attraverso i mass media e chiaramente attraverso internet mi fa male perché immaginare questi ragazzi che comunque hanno cominciato la loro carriera pensa mi spiace fare nomi però Tonali e Zaniolo sono comunque al centro delle vicende che non hanno niente a che vedere con lo sport sono al centro di vicende giudiziarie e sono entrambi del 2000 hanno 23 anni la loro carriera è appena cominciata e già sembra sul viale del tramonto per qualcosa che non ha a che fare con il mondo sportivo i calciatori degli anni 70 se terminavano la carriera a 20 anni è perché avevano avuto un infortunio talmente grave che non potevano recuperare indubbiamente anche loro hanno strappato contratti milionari, inutile dirlo però probabilmente avevano quel quid in più che adesso probabilmente sicuramente questo non lo so però manca e mi fa male immaginare che più andremo avanti più ci sarà disaffezione intorno al calcio perché si punterà soltanto a guardare il calcio in streaming o a guardare gli highlights perché ci stiamo stancando anche di seguire una partita per 90 minuti questo ci dovrebbe far riflettere dovrebbe probabilmente portare il calcio a fermarsi un attimo e contare fino a 10, poi prendere delle nuove decisioni perché è giusto che sia così, che questo sport vada avanti che si trovino i nuovi cannavaro, i nuovi materazzi, i nuovi cristianvieri giusto per citare i calciatori poi raccontati nel libro Il calcio come lo sport in generale si è evoluto nel tempo credi che però ci sia un punto di contatto tra la generazione 73 e quella odierna? Credo di sì, nel senso che il calcio sicuramente è cambiato è cambiato anche l'approccio, sono cambiate le tattiche, le tecniche di allenamento è cambiata anche la pressione che questi calciatori sono costretti a sopportare però quello che rimane invariato è comunque il traguardo ci sono ancora calciatori che non vogliono i soldi delle squadre arabe ma preferiscono magari disputare un campionato nella squadra del cuore o tentare di vincere qualcosa con una squadra ambiziosa forse questo è rimasto inalterato nel tempo l'ambizione cambia poi chiaramente tutto quello che è il contorno il fatto che ci siano procuratori che debbano dire sempre la loro c'è una pressione mediatica forse eccessiva mi rendo conto che per carità l'intrattenimento sportivo è forse la forma di intrattenimento più importante che abbiamo in questo momento però secondo me se andiamo soltanto a valutare quante trasmissioni ci sono sul Napoli, sull'Inter e sul Milan ci viene il mal di testa al punto tale che secondo me prima o poi la televisione la spegneremo spero il più tardi possibile perché mi auguro che nel contempo si punti sempre su format diciamo di qualità e che comunque ci facciano vivere in maniera un po' più rilassata quello che comunque resta un gioco lo sport fa parte della tua storia e dei tuoi libri pensi di continuare su questo filone o altri progetti in cantiere? io punto a una scrittura trasversale è chiaro che mi piace definire la scrittura sportiva il mio abito comodo nel senso che è un qualcosa che mi piace affrontare come tematica anche perché quando si racconta di sport irrimediabilmente racconti la vita la quotidianità poi che sia il passato il presente è molto relativo però nel contempo mi sto mettendo in discussione anche come autore sono comunque al lavoro su altri progetti uno andrà in libreria tra qualche giorno ed è il mio primo libro per bambini poi mi auguro che nel 2024 veda la luce un nuovo romanzo al quale sto lavorando da tempo e noi te l'auguriamo, ti facciamo i complimenti intanto per Generazione 73 grazie Pachito Canzaro per essere stato con noi stamattina e noi ci vediamo tra pochissima mattina live dopo un piccolo break